La lettura in Italia non è mai andata bene, non è stato per così dire uno sport molto praticato, le vendite dei libri tradizionali in Italia per carità per certi autori hanno raggiunto alte vette, però se paragonate a quelle di altri paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti, sono sempre risultate abbastanza marginali. Con gli e-book qualche indagine ha dimostrato che forse la curiosità, chissà forse, delle nuove tecnologie dell'apparecchio ha mostrato un certo impulso nell'aumento dei lettori, ma però che cosa fanno i lettori degli e-book come quelli dei libri tradizionali? Non sono lettori curiosi, ma è possibile che i lettori italiani siano, consentitemi la durezza, dei caproni, i quali seguono semplicemente, pedissequamente quello che leggono su questo o quel giornale, oppure quello che leggono nella pubblicità? È possibile che tra i lettori italiani non scatti invece la curiosità di andare a scoprire quello che ci può essere di nuovo, di talentuoso nell'offerta editoriale? Andate a cercare tra gli e-book quegli e-book che non hanno il loro equivalente nella libreria tradizionale, troverete, vi assicuro, molte cose nuove e interessanti da scoprire. Provate!